Lo dico Ho previsto un alt F4 che devo andare via Iniziamo Mi sembra che qualcuno ha preso nel culo Qualcuno ha già cancellato l'account La fenga ha cancellato l'account Oh, perché c'è chi non arriva? Oh, cazzo C'è chi non lo può fare Hai visto? Hai visto? È fatto male, eh? You can't run from me, you stupid shit Come on GG 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 0 GG 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 I bot sanno giocare, ragazzi, in Dead by Dale i bot sanno che cazzo devono fare. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Gigi Avere un appuntamento con Chukichuki Ops Avere un appuntamento con Chukichuki Avere un appuntamento con Chukichuki Avere un appuntamento Avere un appuntamento con Chukichuki Avere un appuntamento con Chukichuki Hemos un appuntamento con Chukichuki Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Gigi Gigi Sono troppo forte Minecraft Guarda guarda Minecraft Tanto è indifferente Giù o su ovunque Basta che muore l'altra GG 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 baby Intanto mettiamo che siamo su Dead by Day Dead by Day Metti Fez Fez Pippidi pippii Grazie al free video Oh, getting banned, getting banned, scrivono Mamma mia, guarda poverini, guarda poverini Mamma mia Wow Che giocatori competitive, veramente questa gente competitiva Te credo, vengono i losers che fanno gli streamers con i bots Doe cazzo vanno Mettiamolo su YouTube, dai Un'altra partita che va su YouTube Stiffalitium Stiffalitium Allora Questa è bella, la mettiamo tutta Grazie a tutti